Bene a tutti ragazzi, vediamo di questo nuovo video, hanno spoilerato la stagione 3 del capitolo 4, ovvero la prossima stagione Però ne parliamo in questo video, quindi guardatelo dall'inizio fino alla fine, ma lasciate prima un bel mi piace Iscrivetevi al canale se non avete fatto, attivate la campanellina e condividete il video con tutti i vostri amici ragazzi Il video non è uscito alle 7 del mattino come ogni giorno, è uscito un po' più tardi per questioni che stavo aspettando tutti i leak Per farvi uscire poi il video con tutti i leak possibili Quindi mettetevi comodi e iniziamo In copertina vi ho anche messo ovviamente l'immagine dello spoiler della prossima stagione Che è proprio l'immagine quella di caricamento, sapete no? Quando cliccate per entrare su Fortnite, aprite l'app, c'è la classica immagine, ogni season cambia In questa season c'è tipo le skin a Mega City che sono sui grinding E questa foto qua ragazzi ci rappresenta quello che sarà l'immagine di caricamento della prossima stagione E ve la metto ovviamente a schermo Ragazzi non è in alta qualità, cioè ok, però è presa da dei leak La fonte è Shina, un leaker molto affidabile E questa ragazzi è quindi l'immagine ufficiale Ve l'ho anche fatta vedere con un post community però volevo fare ovviamente un video Allora come potete vedere c'è la skin del Transformers Quindi c'è una nuova collab Ho letto dei commenti e molti di voi sono felici di questa collab Sinceramente cioè non mi fa né caldo né freddo Sincero Però potrebbe essere bella Vediamo Di solito, di solito, ok, di solito Se ci sono delle collab nel pass battaglia Vengono sempre messe nelle immagini di caricamento In questa season c'è solo Eren e infatti Eren è nella schermata Nella scorsa c'era Doom e infatti c'era Doom Ehm E c'era anche Geralt Cioè ok, quando ci sono delle collab nel pass battaglia Sono sempre nella schermata di caricamento Quindi sembra che ci sia solamente una collab nel prossimo pass Meno male, almeno questo Meno male, meno male, meno male Dietro ragazzi possiamo vedere il miaoscolo estivo Se ne parla già da un bel po' E nella tavola dei servizi da Navita E ok, cioè L'hanno buttato lì, è la classica skin troller ragazzi Cioè giusto per buttarla Perché sanno che il miaoscolo vende Quindi lo mettono lì Ehm Al centro ragazzi abbiamo questa skin qui Che non saprei, non l'ho mai vista Alcuni dicono che Ehm E Renzo La skin di questo pass battaglia Senza maschera, senza tutto Perché c'è una skin di Renzo nella tavola dei servizi Che è senza il casco Quindi c'è un secondo stile Ma in realtà no Cioè dovrebbe essere un simile Diciamo uno simile Ehm Però vabbè C'è una classica skin Secondo me questa qua è a livello 1 La butto lì Comunque ai primi livelli Non credo che sia a livello 100 E Dopo Ci soffermiamo sugli altri dettagli Ora sono le skin E poi di qua Questa skin qui Che sarebbe tipo Ehm Una sorta di Cioè allora il giacchetto Sta roba che c'ha sulle gambe Mi ricorda un po' tipo La skin Allora o mi ricorda Mi ricorda un po' tipo ruggine E anche la skin quella lì I scagnozzi di miaoscolo Di miaoscolo Come si chiamava Di kit I scagnozzi di kit Nella stagione 3 del capitolo 2 Anche loro un po' mi ricordano Però è versione femminile ovviamente E adesso ragazzi Cioè guardate un po' Cosa c'è sotto la skin C'è un raptor I raptor Come vi avevo detto Torneranno Sono anche più belli Molto più carini Con colori diversi magari Speriamo Almeno questo è diverso Spero che però ci siano Molti più tipi E magari abbiano anche Delle specialità In base al colore che hanno Speriamo E sono cavalcabili ragazzi Come potete vedere C'è la skin sopra E sono cavalcabili In mano questa skin Ha una cosa Che potrebbe essere O un'arma Per esempio Potrebbe essere un boomerang Perché è piccolo Quindi Credo un boomerang O altrimenti è un piccone Questo non lo so Invece la skin al centro Ha una pistola A leva Dicono i leaker E poi ragazzi C'è dietro C'è il mio scheletro Che è su una liana Sapete i grinding No? Quelli che ci sono Una mega sitita adesso I tubi neon Dove tu sali Vai Ci saranno Ma saranno Così Con tutti i giungleschi Diciamo Chiamiamo così Poi dietro ragazzi Vedono un sacco di templi Bellissimo Il terreno Tutto fangoso Ragazzi è stupendo Ve lo giuro È stupendo È veramente stupendo Come cosa E sembra veramente figo Come lo pensavo io Poi Vi faccio vedere Delle cose Nel dettaglio Fornite sta lavorando Un nuovo cecchino Cecchino termico Che Sarà di rarità Epica e leggendaria Come i cecchini termici Vecchi Infligerà 116 121 danno In base alla rarità Ovviamente 116 per la rarità viola 121 per la rarità Leggendaria E invece Sul corpo ovviamente Invece in testa Farà 290 E 303 Porca di quella vacca Oh sembra forte Cioè Sciotta Sciotta in tutti i due casi E avrà 3 secondi di ricarica Ok ci sta Dai ci sta Ci sta Poi come vi ho detto La pistola che ha in mano Il tipo Dovrebbe essere una pistola a leva E quindi Probabilmente Avrà i colpi lenti Però potenti Ve le ricordate Le armi a leva C'è il pompa a leva Che lo conoscete Credo tutti Ma tempo fa In season 5 del capitolo 2 C'era anche il cecchino a leva Era uno sbocco Perché Le cose a leva Regà Le armi a leva Fanno male Ma Hanno i colpi lenti Cioè tu quando spari Il colpo Va lento Cioè non arriva subito Al nemico Diciamo Quindi È un po' così Però vabbè Va bene Dai Poi vabbè Ne abbiamo già parlato I raptor Saranno cavalcabili E qua vi faccio vedere Un'altra cosa Allora Non vi leggo tutto nel dettaglio Però vi lascio l'immagine Così potete leggervela Torneranno Gli elicotteri Quindi Ci sta gli elicotteri A parte che secondo me Non li mettono Cioè dicono I leaker Dicono che torneranno Gli elicotteri Ora lo spero Perché ci starebbe Ma secondo me Non lo fanno Perché È da una vita Ragazzi Che si parla Del ritorno Gli elicotteri Non lo hanno mai rimessi Speriamo che questa Sia la volta giusta Ci sarà appunto Una nuova pistola a leva Poi Il cecchino termico Come vi ho detto E questa ragazzi Quando l'ho letta A me stanno Cioè Sono venute le Vipes 2020 È in lavorazione Un fucile a tamburo Mitico Madonna Santissima Quando l'ho letto Regà Il tamburo Sarebbe la Thompson La Tommy Gun Come volete chiamarla L'arma Di Mida Del mio Della mia season preferita Del mio personaggio Della mia skin preferita Cioè Wow 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 E tra l'altro Nella scorsa stagione Hanno anche aggiornato I fucili Di fanteria I fucili a leva Quindi probabilmente Torneranno Infatti Questa sarà una season Tipo season 6 Ok Del capitolo 2 Quindi All'antica ecco Un'arma come Le armi a leva E fanteria Me le immagino Perché Sono per quel tema Ecco Poi sicuramente Ci saranno tante altre armi Nuove Lo spero Però Regà Diciamo che Per adesso Queste sono Le cose che sappiamo Se non Per il fatto che Anche un'altra cosa Sappiamo Se la trovo Ve la metto a schermo Invece no Non la trovo Ah no vabbè Ma ve ne avevo già parlato Quindi non ve ne riparlo Però ragazzi C'è wow Adesso vi rimetto La foto del caricamento A schermo O ve la star Oggi la mettendo Tutto il video Non lo so Però C'è veramente bella C'è È veramente bello E tra l'altro Alcuni sono in dubbio Su questa immagine No È ufficiale Shina ce l'ha confermato E wow Allora Molti Non Dicono anche Che C'è È ormai Da troppo tempo Che Fornit Si fa sfuggire Queste robe Dicono che Fornit Non è attento Cioè ragazzi Secondo voi Fornit Si fa sfuggire Una roba del genere Cioè È un leak Fatto apposta I leak Sono pubblicità Gratuità Ovviamente E tra l'altro C'è una collab Con Transformers Dentro Quest'immagine È ovvio Che Fornit Se la fa Lickare Per farsi pubblicità Da solo Cioè Raga è normale Quindi non è che Se la fanno scappare Non se ne sono accorti Poi È così Poi magari Sì Però no Cioè È così Punto Però ragazzi Allora Sembra figo Ok Sembra Molto Molto figo Però Voglio capire Una cosa Cioè Io sono curioso Di capire Comunque Guardate Proprio il tema È giunglesco Tutto giungla Bello ragazzi Mi piace un casino Un tema del genere Non me lo sarei mai Aspettato D'estate Perché Più che altro Me lo aspettavo Per questa stagione Un tema del genere Invece no Non l'hanno fatto Perché il periodo È quello Più o meno Però Invece no Però va bene Dai Tra l'altro Abbiamo qua In questa immagine Ci sono solamente Quattro skin Del pass battaglia E tra l'altro Probabilmente Il transformers Potrebbe essere Forse Non è detto La skin segreta Quindi noi Nel pass battaglia Abbiamo Quante skin abbiamo Sette O otto Non me lo ricordo Comunque Mi sembra otto Con la skin segreta E E Noi ne sappiamo Solamente Ne conosciamo Quattro Quindi Ragazzi Cioè Praticamente Sappiamo quasi Tutto il pass battaglia Però ragazzi Sembra figo Punto Cioè A me sembra Sembra veramente bello Spero che abbiano gestito Bene i raptor Che non siano come In season 6 In season 8 Del capitolo 2 Perché io li odiavo Non è possibile Che ci sono Allora Nella mappa Non ci sono mai Fanno le missioni Dedicate a loro I raptor Non li trovi Poi ci sono degli angoli Della mappa Che tu casualmente Arrivi lì E Ti mangiano Ti mangiano Perché Sono tutti lì Ammucchiati E quindi ti attaccano E ti inseguono Finché non li killi E spero che L'abbiano gestiti bene Ma È tutto Veramente figo Fatemi sapere Ragazzi Nei commenti Che cosa ne pensate Voglio sapere Tutto quello che pensate Per favore Ditevelo Che sono curiosissimo Io raga Sono veramente in hype Mancano solamente 14-13 giorni Alla fine della stagione Quindi Attivate la campanella Ragazzi Perché usciranno Un sacco di video Iscrivetevi al canale Lasciate un bel mi piace Condividete il video Con tutti i vostri amici Io vi aspetto In live Perché ora andremo In live ogni giorno E vi aspetto anche domani Con dei nuovi video Iscrivetevi Ve lo ripeto Perché è importante Bella Ciao a tutti